Sanzioni più aspre per i violatori delle norme previste in materia di sicurezza, decoro e pubblica incolumità. È quanto stabilito dall'Aggiunta Lanzara attraverso una recente delibera che prevede l'inalzamento delle multe per esercizio e utilizzo dell'attività di meretricio in spazi aperti e visibili al pubblico, Euro 500, Conferimento dei rifiuti in luoghi, tempi e modalità non indicati negli appositi calendari di utilizzo dei gestini da getta carte per uso privato, da Euro 50 a Euro 500. Abbandono indiscriminato dei rifiuti lungo le pubbliche vie, di imbrattamento o danneggiamento di strade ed opere di uso collettivo, Euro 500. Mestiere girovago, bivacco o accattonaggio, Euro 250. Il sindaco Giuseppe Lanzara ha commentato. Non si può transiggere sul senso civico e sul rispetto dei luoghi e delle persone che ci circondano. Per questo, oltre al lavoro di prevenzione, stiamo portando avanti una linea dura, che siamo certi di soliderare i potenziali contraventori dall'idea di mettere in campo azioni che ledono la dignità umana, la salute e il decoro, nonché gli spazi di pubblico utilizzo.